Saldi dal punto di vista maschile. Abbiamo chiesto ai ragazzi palermitani cosa ne pensano, se partecipano attivamente o subiscono l'influsso di fidanzate e mogli. Costretto a fare shopping dalle amiche o ne approfitti piacevolmente? Diciamo che mi stanno trasportando con il guinzaglio, però alla fine è sempre piacevole accompagnare le amiche a fare shopping. Hai approfittato dei saldi per fare qualche acquisto? Al momento no, perché la folla me lo impediva fondamentalmente, però spero di poterlo fare e di poter trovare delle occasioni giuste. Quindi da uomo un tour de force stancante e noioso o comunque piacevole? No, per quanto mi riguarda oggettivamente è piacevole, a prescindere dai saldi o meno, però effettivamente la folla è stancante e anche abbastanza ossessionante, quindi con calma, magari rischiando di trovare quanto meno, però con la giusta calma si trova secondo me le cose giuste, senza ossessionarsi e andare in panico fondamentalmente. C'è molta confusione, ma i prezzi sono comunque alti e la crisi si sente comunque. Dal ragazzo come vivi questi giorni di acquisti? Costretto dalla fidanzata o partecipi volentieri? Lo shopping è soggettivo, niente fidanzato per lo shopping. Stiamo acquistando bene, i soldi ci sono. Quindi hai trovato delle offerte conveniari? Sì, abbastanza. Ma io vedo che i negozi non sono molto pieni, però io non ho trovato ancora nulla che mi catturasse particolarmente, quindi ancora non mi sono dedicato. Aspetta la moglie o... Sono mia figlia, quindi avrei tempo e nonostante questo non trovo nulla di particolare che mi invita ad entrare. Il mio caso credo che sia un po' particolare, perché non li aspetto. Se mi serve qualche cosa o la compro direttamente senza aspettare i saldi, o perché non vado mai su fascia di pezzo troppo alta. Se c'è qualcosa invece di particolare magari aspetto e vedo se lo trovo, ma poi non sto a perderci troppo la testa personalmente parlando. Come vivi questo periodo dei saldi? Attesa estenuante fuori dal negozio o partecipi approfittando delle occasioni? Diciamo che partecipo in maniera molto saltuaria, perché a trovare i soldi non è proprio una passeggiata. Diciamo che quando posso permettermi qualcosa e trovo quello che mi piace, perché no? Diciamo che sì, esatto. Perché non ora? Per esempio l'altro giorno mi sono comprato un cappotto, non credevo di poterne comprare uno in tempi utili. Diciamo che mi è ritornato utile questo fatto. Non prevedevo, però ho approfittato. Io non ho comprato ancora niente purtroppo, quindi non so dire molto. In ogni caso mi sembra che ci sia un sacco di gente per strada, mi sembra che ci siano delle belle cose e quindi penso sia una bella cosa. Come stanno andando questi acquisti per i saldi? Ne approfitti o aspetti passivamente fuori dal negozio? No, no, aspetto passivamente no, però sono un tipo che magari è un po' difficile come gusti, quindi faccio fatica ogni anno a cambiare interamente il guardarobba. Cioè compro due, tre cose contate all'anno. Quindi ne approfitto, ne approfitterò poco. Finora ne ho approfittato pochissimo, niente. Come sono i saldi dal punto di vista maschile? È noioso fare shopping o anche tu ne approfitti? Io sinceramente non ne approfitto perché con la crisi che c'è veramente non so dove andare a comprare le cose. Il mercatino rulla. Al massimo compro cose online. Dico qua nel negozio ormai non compro più niente quasi. Cioè prezzi sono troppo alti rispetto appunto a me ricercare qualcosa su internet, cioè è molto più accessibile. Per me è molto più facile tutto questo. Grazie. Grazie.